ciao a tutti ragazzi e bentornati al canale di alonso j tech questo tutorial è veramente tanto tempo che lo volevo fare ed è un tutorial che pur verrà inserito nella diciamo così playlist dei tutorial per lo yellow box però è effettivamente a tutti gli effetti un tutorial che va bene per tutti i modelli questo tutorial appunto vuole spiegare la possibilità di poter connettere il flusso streaming di uno yellow box magari collocato anche in una location anche molto lontano in un'altra città anche in un'altra nazione rispetto allo yellow box ricevente potendo sullo yellow box ricevente inglobare il le immagini provenienti dallo yellow box trasmittente potendoli connettere con la massima semplicità infatti questo processo vedrete non coinvolge nessun tipo di settaggio che noi andremo a fare sull'eventuale router sulla connettività del posto in cui si trova sia lo yellow box trasmittente che quello ricevente perché questa possibilità ci viene data dal fatto che noi possiamo utilizzare i server che vengono messi a disposizione ripeto gratuitamente dalla yellow live per poter effettuare il multi streaming cioè la possibilità di avere fino a tre piattaforme andare in streaming questa tipologia di servizio però con contestualmente ci permette anche di fare questa operazione infatti chi è andato un po a sbicciare nei settaggi di qualsiasi yellow box avrà visto che tra le sorgenti video possibili c'è una denominata live stream e si riferisce solo ed esclusivamente appunto un live stream proveniente da un altro yellow box uno yellow box mini che userò come trasmittente e uno yellow box pro che userò come ricevente entrambi gli yellow box vi ricordo devono essere appunto settati sullo stesso account yellow live quindi quando andremo accendere i due dispositivi dovremo fare il login appunto su entrambi con le stesse credenziali ovviamente ho provveduto già a farlo sia su questo che sul pro prima operazione andiamo a creare un nuovo live stream sullo yellow box che riceve e lo intitolerò proprio yellow box pro rx receiving faccio done lo creo lo ritrovo qui negli eventi esco un attimo rientro nella pagina come vedete lo ritroverò anche sullo yellow box che trasmette ma non devo entrare in questo evento devo crearne un altro nuovo che per questo specifico utilizzo lo chiamerò yellow box mini tx appunto per diversificare sia il dispositivo sia la funzionalità trasmittente ricevente per effettuare questo test oltre ad avere ovviamente questi due yellow box mi sto servendo di una camera che è collegata allo yellow box pro come con l'hdmi contemporaneamente essendo una camera ptz dotata di funzionalità anche di webcam allo yellow box mini come appunto webcam quindi sulla usb ho come connettività questa connettività con l'usb dongle su un operatore mobile e sullo yellow box pro che riceve e sullo yellow box mini che trasmette sono collegato a cavo ma un router che ha una sim 4g con un altro operatore mobile proprio per farvi vedere che sono collegati a due bande completamente diverse quello che devo fare è andare sullo yellow box mini che trasmette appunto vedete la camera mi devo accertare che appunto il parametro di streaming mode sia su using yellow live multi streaming service perché devo appunto streamare sui server di yellow live non mi servirà appunto andare su nessun altra tipologia di piattaforma quindi qui non dovrò selezionare nessuna piattaforma perché io sto solo usando questo yellow box mini in questo momento esclusivamente per streamare sull'altro nulla però mi vieta ovviamente di poter andare a streamare direttamente anche su un canale youtube se io voglio mandare su youtube o su facebook o quello che è questo singolo evento vado in streaming usando in questo momento esclusivamente i server di yellow live vedo che appunto il mio streaming sta cominciando ad andare su quello ricevente che ripeto è collegato ad un'altra connessione vado su yellow box pro receiving vedo la camera come hdmi ricordo che la camera in questo caso è una è collegata alla stessa in usb mando un attimo in il program out direttamente dallo yolo box pro quindi vedrete appunto che se io faccio così quello nel mezzo è lo yolo box pro quello nel quello sotto è il program out diretto dello yolo box mini quindi la differenza sarà praticamente inesistente quindi questa è connettività in tempo reale via hdmi sul pro e usb sul mini a questo punto però ritorno alla visualizzazione dall'alto sul quello che riceve io spingo ad video source vado sul live stream aspetto qualche secondo vedrete subito apparire il diciamo così il progetto che si riferisce appunto allo yolo box mini inserisco e lo scelgo e in qualche in un paio di secondi vedrete il live stream su quello appunto ricevente come è possibile facilmente immaginare è un segnale che proviene da una connettività internet diversa e passa per i server di yolo live quindi ovviamente ha una latenza particolare questo lo possiamo notare in questo momento lo sto mandando in onda quindi io se alzo la mano potrete notare la latenza in questo specifico caso vista la bontà delle due connettività effettivamente il giro è molto veloce io posso contare forse neanche due secondi proprio per capire la differenza vedrete vedete la mia camera frontale che è quella più grande in alto sulla vostra destra vedete la camera superiore e il mezzo sulla mia sinistra questo segnale qui è una è la visualizzazione appunto del programma dello yolo box pro che riceve che il lo streaming dello yolo box mini e sotto vediamo il tempo reale dello yolo box mini quindi adesso se faccio così con la mano potete vedere appunto la differenza questo vi fa capire che in una buona situazione di banda dall'una e dall'altra parte c'è la possibilità di connettere uno yolo box con un altro veramente con una latenza più che accettabile non è sempre possibile avere queste prestazioni in questo caso io ho due buone connettività magari siamo nello stesso paese magari siamo in un buon orario non vi posso promettere che le prestazioni siano identiche per ogni connettività ma voi capite che con questa semplicità d'uso io posso organizzarmi per ad esempio trasmettere un evento da una location ricevendo il segnale da un altro yolo box connettendo un altro con un altro evento in un'altra location quindi per fare quasi un collegamento esterno è ovvio per creare una connettività con una persona che magari si trova dall'altra parte devo sperare che la che magari può ascoltare le mie domande rispondere devo verificare che la il la latenza non sia troppo alta diciamo che un paio di secondi sono una latenza assolutamente accettabile è logico che il se io sto parlando al telefono con lui e lui sente la mia voce lo sentirà con bassissima latenza e quindi la risposta non sempre arriverà con la stessa prontezza è normale però mi è capitato in passato che alcuni clienti mi chiedessero appunto la possibilità di effettuare questo tipo di connessione e ci sono vari modi per esempio uno molto usato adesso con il protocollo chiamato srt però effettivamente l'SRT richiede oltre delle specifiche apparecchiature anche la competenza per fare il cosiddetto port forwarding cioè la possibilità di connettersi attraverso l'apertura di una porta specifica per esempio se si sta usando un router nella location di trasmissione e bisogna fare anche un'apertura di porta nel router che si usa qua nel posto in cui si riceve in questa maniera basta connettersi e loggarsi con lo stesso account sui yolo box e come avete visto la trasmissione è assolutamente efficace e velocissima da settare se ci sono domande come sempre mi invito a lasciarle magari potremmo organizzare qualche test un pochettino più probante per quanto riguarda questo questa funzionalità vi invito sempre a mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e vi è in qualche modo tornato utile iscrivetevi al canale lo facciamo crescere questo fa piacere a me ma penso che possa essere utile a tante persone e vi ricordo di seguirmi anche sulla pagina facebook alonsojtech e sul nuovo canale instagram sempre chiamato alonsojtech grazie a tutti e a presto